Dopo la Disney e dopo la Pixar non poteva certo mancare la Dreamworks, quindi ecco per voi dieci film scelti da me e da Bounded Mind da riassumere in un minuto. Questa è soltanto la prima parte, la seconda parte come ben sapete ormai la trovate sul suo canale. Il protagonista di questa storia è la formica che viene dopo X e Y, Zeta. Lui è un tizio strano che vive in un formicaio e se ne vuole andare perché là sono tutti lobotomizzati e fanno le stesse cose a macchinetta. Zeta cerca in tutti i modi di distrarsi da questa condizione un po' de merda e per farlo di chi si va a innamorare? Proprio della principessa Bala, giusto per rendere le cose ancora più difficili di quanto già non siano. Ma c'è anche il cattivone in questa storia, il generale Mandibola, il capo dell'esercito, che vuole allagare tutto il formicaio per detronizzare la regina e diventare il capo del mondo. Per farlo fa costruire questo megatunnel che il giorno dell'inaugurazione si aprirà e farà entrare nel formicaio l'acqua del lago accanto. Zeta lo sgama in pieno, fa squadra con Bala, con la regina e con Cutter, l'ex aiutante di Mandibola, e insieme portano alla morte il generale dal brutto nome. Alla fine della fiera Zeta si sposa proprio con Bala e insieme fanno tanti bei cuccioletti. Cioè, beh, gli oddio, sempre di formica si tratta. Questo è Campo Mio. Giuseppe, per gli amici, Peppe, è l'ultimo figlio di Giacobbe, della seconda moglie che era considerata sterile. E se hanno un miracolo, Giacobbe vizia il figlio come nessuno nella vita, facendolo studiare mentre gli altri suoi dieci fratellastri si fanno un mazzo così ai campi. A far crescere una leggerissima invidia è anche il fatto che Beppe, attraverso sogni che sembrano trippi incredibili, riesce a prevedere il futuro. Quindi i fratellastri infamissimi lo vendono come schiavo d'Egitto, al capo delle guardie del faraone Potiphar. Va tutto bene fino a quando la moglie di Potiphar non lo accusa ingiustamente di molestia e lo fa rinchiudere. Dopo un bel po', Beppe viene convocato dal faraone, che è tormentato da un sogno di vacche e spighe. Beppe gli dice di mangiare meno pesante la sera e che il sogno significa che ci saranno sette anni di abbondanza e sette anni di carestia. Il faraone così gli dà l'ingrato compito di risolvere la situazione, dandogli però quasi tutti i suoi poteri. Super VIP adesso, quello si sposa e vive bene fino a quando non arrivano gli infami dei fratelli, con un altro fratello ancora, Beniamino. Nessuno riconosce Beppe, così quello per vendicarsi li accusa tutti di furto, minacciando di prendere Beniamino come schiavo. Ma i fratellastri si sono finalmente fatti un esame di coscienza e spiegano di essersi pentiti. Beppe allora, che nu bravo agnuno, li perdona e si rivela facendo trasferire tutte le loro famiglie in Egitto. Un duo di truffatori che stranamente non sono italiani vince una mappa che conduce alla leggendaria cittadoro di Eldorado. Un nome e una garanzia. Siccome questi non aspettano altro che arricchirsi, si mettono in testa di andarci e in modo rocambolesco si ritrovano nella città, dove quegli imbecilli degli abitanti li scambiano per i dei fondatori. I cittadini però non sono degli imbecilli proprio al 100% e fomentati dal sacerdote Zechel Khan vogliono che i due dimostrino i loro poteri per vedere se sono davvero degli dei. Durante una dura prova però uno dei due resta ferito in testa e siccome gli dei non possono farsi male, Zechel Khan apre finalmente gli occhi scatenando contro di loro un gigantesco giaguaro di pietra. Tullio e Miguel, dopo aver litigato per questioni di pilu, si riappacificano e fanno precipitare sia Zechel Khan che la bestia giù da un burrone. Ma qui il sacerdote viene trovato da Cortese e Zechel Khan non può fare a meno di convincersi che pure Cortese è il dio delle sue profezie. Lo porta così al dorado e succede un bordello che i due truffatori riescono a sventare chiudendo per sempre le porte della città. Addio oro. Secondo il faraone Zeti, gli ebrei sono un po' troppi, quindi vai di sterminazione di neonati maschi. Ma Jokabel non ci sta e per salvare il suo neonato lo abbandona tra le acque del Nilo che, magicamente, lo trasporta dalla moglie del faraone che decide di adottarlo e chiamarlo Mosè. Divenuto grande, Mosè viene a sapere dai suoi fratelli maggiori, Aaron e Miriam, o si chiama come me, di non essere egiziano ma ebreo. E quello scappa nel deserto rifugiandosi in una tribù dove si sposa. Un bel giorno, da un arbusto che prende fuoco, gli arriva la voce di Dio che gli dice di andare a liberare il suo popolo. E si riparte per l'Egitto, ma il nuovo faraone Ramses II non è contento manco per niente e lo caccia. Iniziamo così le sette piaghe d'Egitto. Con, alla fine, la morte di tutti i primogeniti d'Egitto. Ramses, ok, allora li lascia andare, ma ha rosicato, quindi li insegue per ammazzarli tutti. Mosè, quindi, per far attraversare il Mar Rosso al popolo di Israele, apre le acque a metà, rinchiudendole quando stanno per passare gli egiziani. E volevi! Da qui inizia il pellegrinaggio verso la terra promessa, con Mosè che si presenta con le tavole della legge. Shrek è un orco verde scorbutico e antipatico che vive in un mondo con i personaggi fributati dalle altre favole che un giorno, in un mercatino dell'usato di creature strane, conosce Ciuchino, un asino parlante che gli terrà compagnia per tutti i film del franchise. Certo che potrei fare frasi un po' più corte. Stanco di tutta la gente che gli infesta la palude di casa sua, accampandosi come una massa di disagiati all'uscita dei concerti di Sfera, Shrek raggiunge un accordo con Lord Farquad, un tizio alto un metro e una brioche che vuole fare sparire dalla faccia della terra tutte le creature magiche. L'accordo è questo. Lord Farquad si vuole spupazzare una principessa di nome Fiona intrappolata in una torre. Quindi Shrek gliela salverà in cambio di liberare la sua palude. Shrek allora parte con Ciuchino, va al castello, prende un sacco di mazzate e salva la principessa mentre Ciuchino rimorca il gigantesco drago che proteggeva il castello. Durante il tragitto verso il castello di Lord Farquad, però, Shrek e Fiona si avvicinano sempre di più e iniziano a provare qualcosa l'uno per l'altra. Peccato che uno sia un orco mentre l'altra sia un essere umano. Oh, ma guarda un po'. Fiona è in realtà vittima di una maledizione che la fa trasformare in un'orca durante la notte? Non l'orca all'animale, la femmina dell'orco. L'unico modo per interrompere questa maledizione è trovare il vero amore e mantenere la forma che il tuo vero amore ha. Siccome il vero amore è Shrek, che combina un casino il giorno del matrimonio con Lord Farquad pur di riconquistarla, Fiona resta per sempre un'orca. E così Shrek è contento e Lord Farquad ci lascia le penne. Sinbad è un pirata con una ciurma di sciroccati come lui. Un giorno, nel tentativo di rubare il libro della pace che porta a pace e prosperità a Siracusa, incontra Proteo, vecchio amico di infanzia, e decide di lasciare andare il bottino. Chi non ci sta è Eris, la dea della discordia, che invece lo ruba facendo dare tutta la colpa a Sinbad. Ma Proteo, che gli crede, decide di andare al patibolo al posto suo se Sinbad non gli riconsegna il libro della pace entro dieci giorni. Eris invita Sinbad ad andare da lui a Tartano nel regno del caos, solo che nel frattempo cerca di ammazzarlo in tutti i modi. Sirene assassine, pesci giganti che sembrano isole, uccelli mastodontici, ma quello si salva sempre anche grazie a Marina, promessa sposa di Proteo, che però alla fine si innamora di Sinbad. Questo è comunque un film fatto da complottisti, perché Tartano si trova ai confini della terra che è piatta. Qui Eris fa giù l'ingiuretto con Sinbad, chiedendo di rispondere sinceramente a una domanda. Se lui non dovesse avere il libro della pace, tornerebbe indietro a salvare Proteo? Sinbad gli dice di sì, ma Eris pensa che stia mentendo, così lo caccia. Ma Sinbad indietro ci torna davvero e prende il posto di Proteo al patibolo. Proprio all'ultimo momento si ripresenta Eris davanti a tutti, che avendo fatto giù l'ingiuretto è vincolata a ridargli il libro. Poi sparisce. Siracusa quindi si riprende il libro della pace, Sinbad e Marina partono con la ciurma verso nuove avventure, e Proteo viene scaricato. Shrek e Fiona sono ormai sposati da un po', quando arriva il momento che prima o poi arriva per tutte le coppie. Mettere in mezzo le famiglie. Così i due bruttissimi sposini si recano a molto molto lontano, regno del padre e della madre di Fiona, per avere la loro benedizione. Qui Shrek viene trattato male dal suocero e si fa talmente tante paranoie che alla fine ruba alla fata madrina una pozione per trasformarlo in un essere umano e rendere così felice Fiona ai suoi genitori. Per rendere la trasformazione permanente però Shrek e Fiona devono baciarsi prima della mezzanotte, ma mica è facile, perché il padre di Fiona vuole togliere di mezzo Shrek, e per farlo si rivolge al gatto con gli stivali, un potente sicario che tanto potente non è, visto che sul più bello si mette a vomitare palle di pelo e si fa catturare da Shrek. Alla fine si aggiunge anche lui alla squadra di Shrek, che deve adesso tornare a tutti i costi da Fiona prima che lei decida di baciare il principe azzurro. Sì, perché la fata madrina aveva nel frattempo trasformato Fiona in umana e l'aveva convinta di aver fatto lo stesso con Shrek, dicendole che la versione umana di Shrek era proprio suo figlio azzurro. Per entrare nel castello, Shrek mette su una squadra di scappati di casa formata da Pinocchio, il lupo, i tre porcellini, i tre topini ciechi e Zenzi. Quando riescono ad entrare e interrompere la festicciola che la famiglia aveva messo su, il padre di Fiona rinsavisce, salva Shrek uccidendo la fata madrina e poi ci lascia le penne pure lui. Ah, si scopre anche che lui stesso era una creatura magica dalla forma di un rosco parlante, e che aveva assunto la forma umana dopo un incantesimo proprio della fata madrina. Ah, facevi tanto lo schizzinoso e poi... Will Smith, volevo dire Oscar, lavora in un autolavaggio di balene. Fa già ridere così. Il tipo deve saldare un debito con Dollino, che si sarà capito è un boss mafioso. Lui ha due figli, Frankie e Lenny. Quest'ultimo è però uno squalo vegetariano e il padre non lo accetta perché lui deve squartare e papparsi tutti gli abitanti del mare. A causa di un incidente, Frankie muore e siccome accanto al suo cadavere trovano Oscar, quest'ultimo diventa il super famosissimo Oscar Nascuali. Dopo un flirt con Angelina Jolie, Oscar capisce di essere sempre stato innamorato di Angie, la sua migliore amica, e torna da lei. Ma la pesciolina è stata rapita da Dollino. Oscar e Lenny vanno da lui e dopo un rocambolesco inseguimento, Oscar fa una stregliata di capelli a Dollino, dicendo di dover accettare il figlio per quello che è. Lo squalo così si pente e tutti vissero felici e contenti. Ah, non muore il cattivo. Peccato. Questa storia si svolge in uno zoo di animali strafatti che non vedono l'ora di uscire e seminare il panico nella città. Questi sono il leone Alex, la zebra Marty, l'ippopotamo Gloria e la giraffa Melman. Marty decide di scappare e gli altri, per dirgli che non deve scappare, scappano a loro volta per cercarlo. Ha senso. Vengono sgamati dalla polizia, che li ficca in delle casse e li mette su di una nave per spedirli in Africa. I pinguini non ci stanno perché preferiscono ambienti freddi, quindi dirottano la nave come dei terroristi e causano la caduta delle casse con tutti gli altri animali dello zoo sulle spiagge del Madagascar. Qui si trovano in mezzo a una tribù di lemuri altrettanto strambi e Marty e Alex cominciano a litigare perché il primo vuole restare lì mentre Alex e Fiffone vuole tornare allo zoo a fare il figo davanti a tutte le persone. Dopo un po' di tempo Alex e Marty fanno pace, ma il fatto che stia a stecchetto da giorni mette a dura prova la sua amicizia visto che lui è carnivore e tutti gli altri teoricamente sarebbe il suo pranzo. A causa di questi problemi viene allontanato dal gruppo e si ritrova in mezzo ai Fossa, un'altra tribù rivale dei lemuri. Insomma, passa un po' di tempo e gli altri si sentono in colpa. Vanno a salvarlo e seme i lemuri e lui salva loro scacciando per sempre i fossa. Poi assaggia per la prima volta i pesci e capisce che gli piacciono tanto quanto la carne, perciò torna a Pacifico e non sarà più un problema per lui restare in natura con i suoi amichetti dello zoo. E se tanto i pesci mica hanno gli occhi dolci come gli animali sulla terra, si possono mangiare quelli. Shrek è ormai un nobile e gli sta venendo un esaurimento nervoso per la vita di corte. Il padre di Fiona muore e Shrek, non sentendosi pronto a governare, va a cercare con gatto e ciuchino Arthur Pendragon, cugino di Fiona ed erede al trono dopo di lui. Mentre Shrek trova quello sfigatello di Arthur e poi mago Merlino, Fiona con le amiche principesse Disney festeggia perché è incinta! Congratulazioni! Ma viene attaccata da Azzurro che si vuole vendicare conquistando il regno. Le ragazze cercano di scappare ma vengono tradite da Raperonsolo, segretamente fidanzata con Azzurro. Shrek torna indietro ma viene catturato da Azzurro che vuole inscenare una commedia teatrale dove ucciderà l'orco davanti a tutti. Dopo un momento girl power, i nostri eroi combattono contro il biondino che morirà schiacciato da una torre. Arthur nel mentre non si sente più uno sfigato e decide di diventare re facendo tornare Shrek e Fiona alla loro palude con tre figli a carico. Grazie mille! 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 Grazie mille!